Dunque, sono questi i diavoli da punire. Scusate! Come? È tutto? Non ci si fa giustizia da soli. Ah, cosa? Forse è stato grasso, l'avrai infilzato. È un diritto che appartiene a me. E a me solo. Chi è questo infante? D'Artagnan, vostra maestà. Tre duelli in tre ore con i tre moschettieri. Atos può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo. Siete molto arroganti, giovanotto. È la mia sola ricchezza. Ed è al servizio di vostra maestà. Mi chiamo Charles d'Artagnan. Conoscevo vostro padre. Cosa posso fare per voi? Da che ho memoria, sogno di essere un moschettiere. Vi unirete i cadetti e un giorno, forse, sarete moschettiere. Sono sette. Noi siamo tre. A me pare che siamo quattro. Puoi ucciderlo, per favore? Non lo sopporto. La rivalità tra le nostre truppe è ridicola. La date ai vostri uomini e io ai miei. Milady. Ci sono stati imprevisti. Tutti morti e sepolti. Non possiamo permetterlo. Lui è innocente. Volete dunque che dichiari guerra ai protestanti e all'Inghilterra? Vogliono disonorare la regina. Per chi lavorate, papà? Per il diavolo, probabilmente. Radio Italia. Radio Ufficiale. Lui è durante davvero bene. Buon tempo è papà.